Come ci si sente a ritornare a quattro? Sono contento, sono contento di essere ritornato perché era una cosa che volevo. Dopo la preparazione con il Savoia che è stata un po', per quanto mi riguarda, un po' tribolato. Sono stati dei problemi, però va bene, vengo qui con tanto antifesco. Ricominci dal campionato di promozione, come ci si sente? Sicuramente a 29 anni mi ha aspettato di essere da qualche altra parte in realtà, però questo è il problema. Si ricomincia, l'anno scorso sono stato fermo perché ho avuto fortuna di essere al ginocchio. Avevo bisogno di una società che credesse in me, che avesse la voglia di avermi e io avevo voglia di essere utile. Quindi ho trovato tutte queste cose qui e sono contento di essere qui. Domenica giocate fuori casa, pensi già di poter scendere in campo per la prima? Io sto bene, ho fatto tutta la preparazione, mi sento bene. Vediamo domani prima di tutto in Coppa Italia l'attore annunziata come mister che cosa deciderà e domenica sicuramente sono pronto per giocare per scendere in campo. In bocca al lupo. Crepito, grazie.